Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono io Danymag02 e siamo su Call of Duty Infinity Warfare Vi starei chiedendo perché Danymag02 riporti un video che ci ha portato molto tempo fa Per il semplice fatto che ho finito la campagna in modalità veterano Ovviamente ci ho giocato molte volte, l'ho fatta in soldato, esperto e veterano, l'ho finita da poco E siccome ho visto che c'è la modalità specialista e dopo quella specialista c'è pure quest'altra che col punto in droidino non si sa cos'è Io volevo portarvi una serie un po' speciale, cioè faremo una modalità specialista insieme Quindi ragazzi iniziamo con questo nuovo video e spero che di arrivare almeno a 5 vi piacere Ovviamente posso approfittare di parlare sopra perché comunque ho messo il video apposta così potremmo parlare un po' più di più Fatemi sapere sotto nei commenti comunque se vi piace e buona visione a tutti Invece è nata un'insurrezione totalmente slegata dal luogo che chiamiamo casa Nuove regole, nuove ambizioni, un nuovo nemico Il Settlement Defense Front ha formato un esercito e ha ottenuto l'indipendenza con massacri e violenze Non sono rivoluzionari, sono assetati di potere Saccheggiano colonie, rubano risorse e controllano i territori con la forza Usano la loro flotta per tagliarci fuori dalle risorse che ci servono per sopravvivere La loro missione è sterminare tutti i terrestri Oggi l'SDF è una macchina da guerra comandata dai militari Se trovasse un leader forte Si immobiliterebbe Alla conquista della nostra patria Mamma mia ragazzi, anche se ci ho rigiocato ogni volta mi spendo a vedere tutta questa flotta Scusa Facciamo l'arma e facciamo saltare tutto Controllo Sistemi OMA Regole di ingaccio Via le sicure Andiamo 10 secondi Porta Ok, eccomi ragazzi Tanto è molto spettato Via, via, via Attenzione Non so neanche come immaginare questa cosa della nuova modalità Sinceramente non lo so Temperatura in superficie 180 sotto zero Muoviamoci Reaper, gli scar sono atterrati Ricevuto Il punto di inserimento è più sotto, 23 metri a nord Ricevuto, in movimento Saibs, vai davanti Uno a uno al Reaper Tiratori Sedef nell'area operativa Contatto imminente Ricevuto, riferisco Chiudo Troviamo l'arma prima che lo facciano loro Libero Punto d'ingresso a 30 metri davanti a noi Avanziamo Reaper, ci avviciniamo al punto d'ingresso Attenzione, truppe SDF in tutta l'area Nessuna scansione termica alla vostra profondità Occhio Ricevuto Prepariamoci Mi sono sentirelle sul tetto Wolf, prendi Nebula Noi pensiamo agli altri Scegliamo Sono sentirelle sul tetto Star, si Mang Vic ruinedi Perciò Io credo che non mi porto sta cosa Eh scusa ho sbagliato un mio C'è avuto Ripariamoci Ok Ed è lên Sono sentirelle sul tetto Wolf, prendi Nebula noi pensiamo gli altri non fermatevi poi ragazzi penso che vorranno fare pure l'altra modalità sinceramente poi la vorrò fare tantissimo io è da provare cioè questa già è fantastica stato in salute ci siamo quasi prepariamoci che abbiano sentito il voto immagino di sì allora diamogli benvenuto serve un antigravitare l'ho ricevuto vai che a terra attenzione agli angoli riper siamo nella struttura di ricerca procediamo all'armeria avastiamo di tutto se vuoi ricordarmi solitamente dopo che vengo ferito possiamo essere un po' di ricerca non sembra di no lavoratori in vista contatto all'attacco adattacco all'attacco a sinistra attacco al tornatore 12 zerita alla gamba segni di time def versaglio in zona attacco avrò attacco all'attacco la vita reale non so non fermiamoci non fermiamoci non siamo ancora sicuro adesso critica no ma bene è proprio la sequenza di autodistruzione ricevuto è piacevole all'attacco fermiamoci tiro una granata non fermiamoci non siamo ancora al sicuro adesso ci avviciniamo al bersaglio recupero tra sei minuti chiudo abbattila saibs siamo nell'armeria procediamo al recupero dell'armo attiva lo saibs potrebbe servirci riper abbiamo l'arma confermare l'autodistruzione rosser sequenza di autodistruzione avviata attenzione sono in arrivo oltre 50 tra soldati e mezzi del 7f dovete andarvene subito ricevuto in movimento ci vediamo tra cinque minuti c'è poco tempo forza attenzione avviata attenzione avviata liberare l'arrivo in questo momento poco volontà poco volontà poco 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 Investi un prem punto م Grazie a tutti. 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 No. 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 Grazie a tutti. No. 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 i caduti ecco la settimana della flotta ragazzi venite il video lo continuo però voglio arrivare a meno a 5 invece come il video scorso sono arrivati a vedere più, mi sono contento ecco la retribusso siamo qua giù solo da un giorno solo a chi lo dice reins ha parlato di un certo e 3m mai sentito negativo il nostro reyman a 4 stelle sta sempre stupirci volerà alla cerimonia insieme a noi e vedi di non chiamarlo così vai e sua presenza questa parte tenendo la divisa e i suoi vantaggi abbiamo un volo in partenza la gente piace questo è solo per pagare abbiamo perso quattro uomini e siamo qui a festeggiare ente reyes e quello cos'è? credo sia il nostro e3n affermativo sotto ufficiale di prima classe e3n android e tattico terza revisione un nome altisonante davvero? chiamami ita quali sono i tuoi ordini? assegnato alla retribution agli ordini di older sei fatto per combattere? si tenente e per uccidere sembri uno che ci sa fare con le armi così però mi metti in imbarazzo non serve ita mi fai sentire vecchio benvenuto ammiraglio bene ora ci conosciamo tutti possiamo decollare è riuscito a tenere itam ben nascosto ammiraglio holder lo sapeva è il primo modello avanzatissimo lo sveleremo alla cerimonia di oggi ho un po' di panico da palco provi sentimenti? si tenente proprio così ho il cervello di un contadino umano cazzo dici sul serio? no per niente la fregata tenente non è vero oggi gli atis fanno gli straordinari e ammiraglio per forza tenente mai a passare la guardia conosci quei sistemi di contraerea itam? proteggono la terra letali vengeance qui raven 6 in fase di approccio finale ricevuto 6 vengeance in attesa ammiraglio che c'è itam? i cannoni alis sembrano puntare la nostra flotta attenzione pilota colpito ci penso io viene lì via niente è fuori controllo arrivano delle navi e stagliacque attenzione colpi sparati all'attore di controllo atis ripeto colpi sparati tocca il sovrei riassegnare e schierare tutte le unità disponibili non è un'esercitazione prepararsi all'impatto attenzione che vengono che vengono vengono Sì, non c'è nessuno. prendere le armi sta bene ci rimpuiamo il 7 usa i nostri atis per abbattere la fotta dobbiamo andare alla torre e riprendere il controllo dei campi si 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 se Stiamo saluti, scarso. Sacco, secondo piano! Con te, Raias. Ti copro io. Tiro una granata! Stiamo saluti, critica. Via libera! Ah, ci copro! C'è un po' qua… Tu m'è? Ecco così, posso mostrarvi? Ecco così… C'è un po'… Ma inizia. Che? Oh… Oh, sì… Che non c'è… Ma, ma… Ha, ma, ma c'è un po'…